... Gianmarco Tocco Stream Mi sono cagato in mano! Porca Madonna dei valli stronzi! Porco Dio a te e ai clienti! Porco Dio! Porco Dio! Porco Dio! Cioè frate questo si mette il microfono Vuole fare Cioè questo si mette il microfono Vuole fare la gag Una volta si incarta La seconda gli si sabba uno sopra E non si sente quello che dice Date una medaglia Date un prosciutto a quest'uomo Date un prosciutto crudo a quest'uomo signore Grossi muscoli Adoro i muscoli Vuoi farti due muscoli con me Ma non ce la faccio più Eh raga Ma raga Questo è un pazzo Porco Dio Madonna tra le bastarde in culata Che diretto frate No ci ho sento in chat Ce n'ho due Gesù Cristo Una mela al giorno Le va il medico detorno Easy Easy Guarda solo perché io ti voglio bene Che mi dai? Due scurini Stiamo a scherzare Cioè allora ragazzi a Napoli Porco Dio stiamo a Caserta Stiamo Ma dai ma di che stiamo a parlare Ma frate Quello metterò un paio di cose E' pasta ufficiale Si ciuccia L'aveva presi L'aveva presi Il tipo che mi vuole dietro Dai da questo cazzo L'esculino Porco Dio Eh li aveva presi Quello che sta dietro Sì devi chiedere a lui Porco Dio Cazza Dragomalfoy Entra nella traccia Rick tu sempre No già mai go Cioè qua non puoi far popo niente Non ci posso aggredere Non ci posso aggredere Non ci posso aggredere zidrovic solo per te mister fanno uno spammetto da amazon prime grazie molto gentile dobbiamo ritrovare un paio indovinate che è l'ultimo che con è un buffone che fa e lui è l'rpg crea un account da 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 pc istaperma bannato no non è non è indirizzo ip non è indirizzo ip fabrizio non è indirizzo ip neanche con il vpn funziona e è una cosa che sta proprio dentro ai cellulari a zì grosso blur su twitter è stato creato tramite il cellulare di sofia ma il cellulare di sofia zì quindi non vorrà di che un giorno chiedo chiedo a zano e agli altri di non twittare per un sì probabilmente il vod prende lo elimino è orrendo dai è disgustoso fa cagare c'è doppio così con riverbero sembrava che stessi dentro a batcaverna praticamente ma se sente bene sì era doppio ricoglioniti peggio di me la godo siete peggio di qua guarda titti come mi guarda johnny creek che devo devo recensire johnny creek ma come fai a re ma fa frate sto provando a ringraziare i tuoi sabba c'è frate sento solo ggggg all'infinito ferro partì porca troia c'è chi da che papè sul set che curso di recalope auguri grazie per i cento zanna grazie di due mesi bentornato grazie per il prime giammo non è che se ti addobbano lo fanno apposta da quindi devo pensare che ci hanno le mani di steven hooking se in rettilino prendono e vanno tutto a destra stupido uccello di merda non mi voglio non voglio farmi l'uccello perché l'altra volta è veramente stato come rubai caramelle al ragazzino mi sento in colpa poi pappa la pappa fa le pompe ai cavalli guarda mi chiamo ma arriva al 61 i cazzo che ha preso mia mamma porco di mi sembro quei pequeno quando faccio le strogo corse ti giuro mi sembro un po e che ne vanno tutta a destra riso con occhi e curi e ne un giro solo questa giamma che cazzo fanno questi non hanno le collisioni ma che fanno già ma ci sono dei personaggi strani è già ma sempre la pausa fastidiosa eccola l'utilizzo della pausa fastidiosa signore è molto interessante la pausa fastidiosa la pausa fastidiosa la pausa fastidiosa ti infastidisce la vedi con l'occhietto la vedi ti dà fastidio la pausa fastidiosa direi cadanno la pausa fastidiosa ma sono il campione ma chi cazzo sei sei io c'è un marco tocco c'è un marco tocco c'è un marco tocco che c'ha il 5 stream aperto per sempre official ci stava preparando i panini raga ci stava facendo due panini rimette kent al das zano va da official boom un pizzone qui dietro ma qui raga ma e ci aveva e ci aveva il doppio taglio al tempo e quindi si è sentito proprio la mano su sulla pelle del collo una stecca e sì e lì io io boom io ragazzi bianco in faccia perché comunque stavamo a milano stavamo stavamo in ci stavo ospitando stavo tipo official si gira e che raga che fa secondo voi io sì già stavo prende e si scusa con zano gli dice scusa ti aggiungo più maionese ha preso si è rigirato muto si è appreso la maionese e l'ha messa tra le due fette di tacchino mi piace apprezzo rng mi piace quella componente rng mi piace gi 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 hai capito hai capito un giro solo parto 28esimo rimango 28esimo L'ho già vista sta gara